Un'occasione per confrontarsi attraverso un viaggio tra i versi mortali della prima opera poetica dell'Occidente, così incredibilmente restituita dalla traduzione di un grande studioso spezzino. È quello che ha offerto ieri al Centro Civico di Fossi Termi di Lago Vivaldi l'incontro promosso da Anteas la Spezia sul tema statuto di giovinezza vecchiaia e di vita morte nell'Iliade di Omero. È stato il professor Giovanni Sciamarelli recentemente insegnato della benemerenza civica alla parte del Comune della Spezia, proprio per la sua attività di studioso, traduttore e divulgatore della letteratura e cultura greca, a introdurre e commentare i passi letti dagli attori Gianluca Rizzo e Gregorio Vasoli, tratti proprio dall'affascinante traduzione di Sciamarelli. Io avevo un alunno tanti anni fa, quando insegnavo a Tecchi anni fa, che Gianluca Rizzo, con il quale si occupa di tutte queste belle cose, di anziani, di giovani, organizza queste manifestazioni, eccetera, che mi ha sempre accompagnato, aiutato in tutta l'attività che poi ho svolto perché mi sono messo in pensione, ma che avevo già cominciato prima quando insegnavo. Attività consistente, introduzioni di teatro greco o poesia, teatro greco antico, che ho portato in giro, attraverso letture, fra cui anche lui, con suo pro, e adesso ha avuto questa iniziativa di portare qualche cosa di questa traduzione qui a questi personaggi. L'opportunità quindi di affiancare ai giochi di società che quotidianamente vengono svolti nei centri sociali, anche iniziative di tipo culturale. È una scommessa sulla quale i servizi sociali e i centri sociali anziani stanno lavorando da parecchio tempo e la collaborazione con i volontari dell'associazione Anteas che gestiscono i centri sociali di posti termi ha reso possibile questa esperienza. Noi crediamo fortemente nello scambio intergenerazionale, stiamo lavorando, in particolare Anteas con i suoi volontari sta lavorando con le scuole del quartiere di fossi termi e cerchiamo di mettere delle pillole dentro il centro sociale che ci portino anche a ragionare su dei temi un pochino più complicati.